Bella a tutti ragazzi, come va? Spera bene qui a Pietro e benvenuti ancora una volta in uno dei miei video ed eccoci qua di ritorno su Battlefield 4 e oggi ci facciamo un piccolo video continuando la nostra piccola serie dove voi mi proponete un'arma e io faccio una partita con la vostra arma proposta quindi nel mio ultimo video avevo giocato con l'M9, oggi giochiamo con la 93R che molti di voi me l'hanno proposta, più di uno per questo inizio con quest'arma e niente, partiamo subito, quindi la IK la mettiamo in tasca, la 93R la usciamo fuori, perfetto siamo spawnate subito io la lancio solo per coprirmi le spalle ragazza ganata, in più l'ho sbagliato quello si è volatilizzato, ok qua c'è il mio compagno che ci pensa prima kill, cerchiamo di ripartire su perché se ogni kill moriamo una volta non vale la pena quindi cerchiamo di farci furbi ok quello è spottato gli spawn se non sbaglio sono da qua, cerchiamo di prenderli alle spalle dai 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 guardiamo a sinistra c'è un mio compagno, perfetto quindi questi sono tutti nostri uno e no due ok quello è da dove sale ora, oh no no c'è n'è ancora uno là non so più dove nascondermi, no la kill mor qua, che c'è fatto il kill mor qua lancio una granata solo per proteggermi ancora una volta le spalle c'è qualcuno? no, c'è il mio compagno, quindi loro dove sono? bella bella, dai che c'è n'è ancora uno in queste parti quello non era un nemico eh sta a distanza ok c'è n'è uno sotto sotto no e tu da dove sei uscito fuori? da dove è uscito fuori quello? no, emulizioni voglio prendiamo qua il kit alle lecce ci siamo possiamo aver ricaricare il nostro arsenale che abbiamo in tasca ok ricariciamo pure la pistola, sento uno che sta per arrivare mamma mia pepe a questo dobbiamo rusharlo wow, quello mi ha lanciato una granata in testa porco, due mi ha fatto male dai, prendiamo le spalle non c'ho più granata, mannaggia due se no avrei potuto rushare come un pazzo perchè non è morto? no scusatemi ragazzi sono arrivato col mio mouse fuori del tappetino non so se si è visto che non si è più mosso per un attimo wow, quanti sono oh, comunque gli ho fatto 89 di danno a quella mi dispiace, non avevo più tempo per arrivare morto con più vita eccolo qua, eccolo qua no, me l'hanno fregato oh, là ce n'è uno lunga distanza ok questo non vuole morire no ecco qua ancora una volta si è inciapata la pistola come potete vedere è forte ma è molto difficile da gestire a volte le raffiche ora, non lo so se tutti questi piccoli dettagli voi li vedete nel video ma io ho sentito che si era inciapata la pistola perchè ho schiacciato due volte consecutivi ma troppo veloce sul tasto ed è per questo che abbiamo quella sensazione che non vuole sparare la pistola eh, è così eh, questa granata è incendiaria, cosa vuoi fare? cosa vuoi fare con questa granata è incendiaria? io vado da sotto, li prendiamo alle spalle perchè in questo gioco non ci pensa mai nessuno fare il giro così ora ce n'è uno ma lasciamolo stare guardate che non possiamo fare il giro da là quella è madonna amico beh, guarda come salta in aria pom dai dove vai amico? crepa? rinamiamo perchè ce n'è uno che arriva? dov'è? 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 cavola non ho più un lezione ma sono dei miti tutti quanti sono dei miti cavola no la claymore perfetto uno dove sono andati gli altri? amico non ti lascio là non ti preoccupare ok 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 è che sono qua è che sono qua ok ce n'è ancora uno se non sbaglio no il geniere era l'ultimo ho finito ancora una munizione mannaggia due nooo è che lo prendiamo così prendiamo tutta la sua squadra dalle spalle uno forco due ragazzi come siete cattivi e dai ragazzi come potete vedere giocare con la 93 non è che impossibile ma richiede molta concentrazione non è che in poco valore si può lasciare di più ad esempio se io giocavo con una magnum facevo un passo in avanti e due indietro mi assicuravo le spalle in poco valore l'ho lasciata una granata per guardarmi per temporeggiare un po' oh quanto ce ne sono e abbiamo perso questa piccola no 97 97 allora io non spawn così non gli donti che dai 99 100 dai ragazzi 99 100 siamo dei miti grande ragazzi grande la squadra e va bene dai ragazzi spero che questo piccolo video vi sia piaciuto spero che vi abbia fatto capire un po' come utilizzare alcune armi ad esempio una a raffica con un'alta rata di fuoco e una alla prossima volta vi farò un video con la magnum 44 così vedete la differenza fra questi due video dai ragazzi per questo video è tutto io vi do appuntamento in uno dei miei prossimi video vi prego proponete un'arma almeno ci divertiamo insieme ciao belli alla prossima